buongiorno buongiorno a tutti buongiorno buongiorno iniziamo con di nuovo con il metodo dell'otto vari venezia e tutto ci sono tre numeri però sulla schermata trovate solo due numeri e poi ora faccio vedere finale il terzo numero da giocare grazie ancora della fiducia e grazie delle persone che mi hanno mandato il regalino io le previsioni le ho date sempre gratuitamente ma non chiedo niente però ci sono delle persone hanno un buon cuore ok che mi mandano ogni tanto qualcosa come come impegno che faccio mi poi mi ringraziano lo stesso perché quelli che mi mandano sempre poco ma va benissimo per me va se non mi fa niente nessuno obbligo ok io non chiedo niente le ho date sempre gratuiti le previsioni però io accetto quello che mi arriva senza problemi se no basta che essere benessere in cere ragazzi e quello che mi interessa ok state tranquille che va tutto bene ok dai andiamo avanti allora andiamo avanti avete visto con il lambetto che abbiamo fatto e grazie ancora della fiducia quella che abbiamo fatto sabato grazie 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 e poi anche il giovedì abbiamo fatto non solo abbiamo fatto scusate si abbiamo fatto martedì e poi abbiamo vinto il sabato giusto siamo di essere chiare ok allora dai andiamo avanti i numeri che sono da gioco queste 10 all'8 non c'entra niente comunque già già preparato il video lo trovate nel canale il numero ragazzi adesso tutti amici colleghi copiano e ho visto tanti che copiano i numeri comunque poi aggiungono qualche numero oppure mettono per esempio 34 e poi mettono insieme a 13 poi aggiungono altri 5 6 numeri abbonati abbinati con il 34 oppure il 13 abbinati con altri 5 6 numeri ci sono tanti colleghi che lo fanno io vedo però mi non mi interessa io quello che studio se qualcuno mi dice da dove è tirato fuori questi numeri certo che le dico come l'ho fatto di tirarli fuori tutto scritto da me qua perché io scrivo tutto a mano e rimane tutto a mano ok questi stati preparati ieri sera ok ieri sera oggi 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 il 24 sono preparati il giorno 23 di giugno preparati questi qui ok domenica vediamo le persone che quando mettono i numeri copiano anche delle persone copiano di non ho visti tanti che copiano comunque tanti tanti e poi lo vendono di tante persone che la mettono sul loro gruppo per in privato e lo vendono e non è giusto ragazzi non è giusto va bene non importa allora è il terzo numero andiamo a giocare il 34 e 13 34 e 13 attenzione ancora il numero 4 lasciamo stare se non andiamo in confusione andiamo avanti solo queste nuove previsioni 34 13 più un numero ok da aggiungere allora bari venezia nazionale il quarto numero da giocare e poi vedete voi se volete vedere 34 e 13 e poi il terzo numero insieme a uno di questi alla vostra scelta alla vostra basta che giocate poco e speriamo che escono il primo colpo come in martedì scorso come in martedì scorso ok e poi il million dai che è stato pubblicati ieri abbiamo già avvento ieri rimangono sempre quelle e il 10 all'8 avete visto che abbiamo preso il venerdì e sabato abbiamo preso l'oro abbiamo preso sempre il nostro spese se non sono tanti soldi però abbiamo preso sempre qualcosa ok l'importante non buttare via soldi e allora dimenticare tutte le previsioni passate io lo dico però quelle che abbiamo giocato il 13 il 4 e il 17 dove sono eccoli qua dimenticatele ok andiamo a giocare il 13 il 34 il terzo numero adesso lo dico e poi unica cosa chi vuole giocare ancora che avevo scritto 90 e il 14 90 e il 14 giocato solo bari venezia ok 90 e il 14 su bari e venezia qua scritti chi la vuole giocare giocatele oppure se volete aggiungere con questi numeri fate quelli che volete voi alla vostra scelta ok il resto andiamo a dimenticarlo tutto quanto dimenticate tutto ok perché io però io attenzione ancora col 4 che mi piace ancora tanto 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 questo 4 qua veramente però non vado a fare casino se no mi piace il 4 mi piace allora allora il 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 terzo numero da da abbinare qui insieme al 34 il 13 il numero dove 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 l'ho messo eccoli qua giriamo il foglio giriamo il foglio dove mi piace 2 materiale isatan scritto qua va bene lo dico a giocci dai lo dico a voce no no che faccio vedere se no dicono non l'hai detto non l'ho sentito il numero dove l'ho messo dove l'ho messo ragazzi eccole qua scritto anche un po' male adesso lo scrivo bene 13 e poi 34 e 48 eccole qua Bari Venezia Nazionale e tutte ok eccole qua 13 34 48 il terzo numero è il 48 ricordate il 48 ci siamo ok il 48 ragazzi come terzo numero se volete giocare ambo eterno su queste tre ruote ciao a tutti alla prossima grazie della fiducia ancora ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.